Maxi operazione antidroga da Vezzano nella Marsica. Dall'alba di questa mattina polizia municipale, vigili del fuoco e oltre 100 finanzieri sono stati impiegati nell'operazione Drugstore che ha portato alla luce, secondo gli inquirenti, un supermercato di sostanze stupefacenti. La droga arrivava dal nord come è stato accertato con le attività di osservazione, pedinamento, anche tecniche, anche con gli strumenti tecnici del caso. I consumatori arrivavano, proprio per l'eccezionale qualità della cocaina, arrivavano da molte zone limitrofe, non solo dalla Marsica. Il business intaccato dalle forze dell'ordine ruotava intorno alla compravendita di cocaina, la sostanza maggiormente in voga tra le classi più agiate della società. Questa mattina sono state utilizzate anche le unità cinofile, con tanto di cash dog, ovvero un cane addestrato a fiutare banconote. Il blitz, coadiuvato anche da un elicottero, ha mirato dritto a una casa alle porte del nucleo industriale, ritenuta centro dell'attività di spaccio. Tramite intercettazioni ambientali e sistemi di videosorveglianza, sono state registrate oltre 3.500 cessioni di cocaina, per lo più a consumatori delle province di Rieti e Chieti. Una dimostrazione muscolare, quella da parte dello Stato. Il massiccio impiego di uomini e mezzi ha portato alla carcerazione di nove soggetti e agli arresti domiciliari di un altro individuo. Le fiamme gialle hanno poi effettuato altre 12 perquisizioni e il sequestro di sette automobili.